cari amici di total photoshop ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con wordpress la settimana scorsa abbiamo iniziato l'argomento traduzione di temi e plugin all'interno di wordpress abbiamo visto che esiste un sistema specifico e anche direi molto efficiente in questa piattaforma per apportare le traduzioni di tutte le stringhe di testo inserite all'interno di nostri temi e plugin ovviamente questi temi e plugin devono essere predisposti alle traduzioni in effetti la settimana scorsa abbiamo visto come andare a tradurre un plugin effettivamente predisposto ovvero next gen gallery in cui mancava praticamente la traduzione in italiano abbiamo quindi modificato e creato i nostri file pomo vi ricordate editati appunto editato perché noi lavoriamo sul file .po con estensione .po utilizzando il programma guarda caso poedit e abbiamo creato queste traduzioni in questo menu che prima invece non esistevano vi ricordo l'ho scritto sul testo del tutorial della scorsa settimana prima di iniziare questo noiosissimo lavoro della traduzione di tutte le stringhe di testo che ci sono all'interno del nostro temi plugin di cercare in rete se qualcuno magari avesse già fatto questo lavoro per noi quindi scaricare la versione appunto i due file pomo semplicemente da caricare sul nostro spazio web e quindi avere come per magia il nostro plugin tradotto in tempo zero quest'oggi vediamo però come invece rendere, predisporre un tema perché oggi utilizziamo il nostro tema main book come esempio predisporre quindi un tema alla traduzione se così non fosse ovvero in questo momento il nostro tema main book ha per esempio in un page questa frase recent post andiamo a vedere un attimo in baccheca aspetto si tratta della pagina index.php quindi andiamo a prenderci da subito eccola qua index.php e andiamo a trovare eccola qua vedete? post recenti scritto in inglese se è inserito in questo modo è un test, una stringa all'interno di tag html che servono unicamente a dare dell'aspetto tramite il css ecco questo vuol dire che il nostro tema non è predisposto alle traduzioni altrimenti la stringa non sarebbe scritta in questo modo ma così come lo andremo a vedere tra poco per conferma andiamo all'interno del nostro spazio ftp sono già all'interno di wp-content-tems vado a prendermi la cartella main book e all'interno mi dovrei ritrovare una cartella che si chiama lang eccola qua questa è vuota in effetti questa cartella l'ho creata io ma il nostro tema è sprovvisto di una cartella appunto che si chiama lang language ok? language quindi cosa vuol dire questo? che il tema main book non è predisposto appunto alle traduzioni questa cosa accade piuttosto spesso soprattutto quando il tema in oggetto è un tema gratuito lo dico perché se andiamo a pagare 90 dollari un tema scaricato dalla rete ci aspettiamo che non solo che ci sia la predisposizione alle traduzioni ma che magari ci sia anche la nostra lingua però questa è una cosa specificata in fase di download con temi e plugin gratuiti può spesso capitare di non avere questa predisposizione ok? come tradurre questa stringa di testo? se si tratta solo di questa stringa ovviamente ve lo dico da subito la cosa più efficace efficiente e veloce senza impazzire è arrivare qua e cambiare il testo niente di più semplice il punto è che se invece le stringhe da modificare i suoi di più se vogliamo fare un lavoro tra virgolette coi fiocchi se il tema per esempio l'abbiamo creato noi e quindi vogliamo metterlo a disposizione in rete e fare un prodotto di livello superiore ecco quello che facciamo invece è utilizzare il metodo riconosciuto da wordpress per le traduzioni che vedremo adesso noi in ogni caso ovviamente prendiamo questa stringa solo come spunto per vedere come agire allora per analizzare il nostro tema in questo caso vale anche per un plugin abbiamo bisogno di una copia in locale del tema stesso allora io vado andiamo a vedere da subito eccoci qua sono sulla scrivania del mio mac e abbiamo il tema main book ok? abbiamo bisogno quali sono gli attrezzi del mestiere? poi edit apriamoci il nostro poedit perfetto allora guardate cosa facciamo all'interno di main book mancava la cartella lang language ok? quindi io vado già a creare una cartella che chiamo lang eccoci qua eccoci qua perfetto ora all'interno di poedit in file vado a creare un nuovo catalogo nuovo catalogo che chiamerò con il nome main book eccoci qua percorsi sorgente cioè dov'è che deve andare a cercare le stringhe cercare le stringhe da tradurre dovrà cercarle dove noi siamo all'interno di lang perché ovviamente il file pomo lo inseriremo in questa cartella dovremo salire praticamente di un livello ok? stesso livello della cartella non al suo interno e cercare in tutti questi file ok? tutti i file che compongono il tema main book allora noi il percorso che si inserisce qua sotto con questo pulsante gli diremo che il percorso è due punti slash questo è tutto quello che bisogna inserire perché praticamente questo a livello di directory dice di salire di un livello ok? questo vorrebbe dire salire di due livelli ma non ne abbiamo bisogno ok? fatto questo andiamo a inserire le chiavi di ricerca che è l'argomento di cui parliamo adesso allora abbiamo detto che è il file index che dobbiamo modificare vero? perfetto andiamo a prenderci siamo all'interno di main book prendiamoci proprio l'index.php lo apriamo al solito con il nostro text edit in tutta semplicità eccoci qua perfetto allora ce lo portiamo in una pagina vuota bella comoda e adesso dobbiamo apportare una modifica perché il nostro sistema di traduzione appunto perché wordpress riesca a rintracciare quelle string che devono essere tradotte serve del linguaggio php non possiamo non sarebbe mai riconosciuta questa stringa così com'è dobbiamo inserire del codice php ed è questo il codice guardate allora facciamo un po' di spazio per lavorarci eccoci qua in tranquillità perché vediate bene il codice io vado ad aprire un tag php ok? cosa che ormai abbiamo imparato a fare è questo ok? quindi abbiamo effettuato l'apertura e guardate cosa dobbiamo fare underscore underscore e aperta tonda e aperte virgolette quello che c'è quello che va tradotto sarà contenuto proprio in questo codice quindi underscore e aperta tonda virgolette vado a chiudere le virgolette e praticamente ho ho detto questa è la stringa di testo che dobbiamo andare a tradurre virgola dovremmo praticamente inserire il nome dell'elemento elemento adesso ve lo metto tra virgolette e vado a spiegare meglio la cosa da qui a pochi secondi dell'elemento che stiamo traducendo se si tratta del tema il tema allora sarà main book ok? se fosse la traduzione di un plugin allora avremo il nome del plugin ma adesso tutto sarà più chiaro entro pochi secondi facciamo minuti datemi un attimo più di tempo vado a chiudere la tonda punto e virgola al solito in programmazione quando si chiude praticamente un'azione che deve essere eseguita si termina sempre con il punto e virgola spazio chiusura del tag php allora la frase la stringa era recent post noi l'abbiamo praticamente inserita in questo codice php ok? ci siamo in cui appunto c'è la stringa sì ma diciamo wordpress attenzione che grazie a questo codice ok? qui c'è una stringa che necessita di traduzione ok? che è predisposta per essere tradotta ecco qua allora salviamo il nostro file index perfetto e possiamo anche lasciarlo aperto torniamo praticamente in poedit ok? parole chiave cioè come vado a recuperare le stringhe quali sono i caratteri che fanno riconoscere il sistema wordpress che le stringhe vanno tradotte ecco l'underscore è uno ne aggiungo un altro ed è l'underscore e che è quello che abbiamo utilizzato in questo momento torniamo indietro allora attenzione al file a cui stavamo lavorando allora perché c'era anche semplicemente l'underscore? si può utilizzare anche solo quello in questo modo se io metto underscore e non devo inserire altro se tolgo la e e uso solo l'underscore come abbiamo visto un attimo fa devo lasciare l'eco ok? eco underscore quindi andrà a stampare praticamente quella stringa di testo mentre invece perché solo l'underscore è un'assegnazione mentre invece se io metto anche la e avrò praticamente una già la stampa a monitor della stringa contenuta a parentesi ok? quindi abbiamo inserito praticamente come parola chiave anche quello come salva come come mainpok ok? ora il dove salvarlo in questo caso non è casuale perché? perché noi nelle informazioni appena inserite abbiamo detto a poedit di cercare le stringhe da tradurre al livello superiore rispetto a dove vengono salvati i file cioè all'interno di lang quindi noi è lì che dobbiamo andare ad inserirli quindi ampliamo un attimo la schermata del finder e andiamo a prenderci mainpok lang qui all'interno dobbiamo andare a fare il nostro salvataggio eccolo qua salvato guarda caso allora c'è già nuove stringhe vedete che ha già trovato stringhe obsolete nulla nuove stringhe ne ha trovate due una è quella che abbiamo inserito noi un attimo fa e una my comment is awaiting moderation questa invece era già prevista secondo me è questa qua riguarda i commenti però spesso purtroppo si trovano cose di questo genere nel senso un tema o è predisposto alla traduzione oppure no in questo caso troviamo una stringa di testo che è pari allo zero perché tutti gli altri testi che ci possono essere sul nostro tema non prevedono appunto la traduzione attenzione che io non ho approfondito ma guardandoci in giro probabilmente qui c'è poco niente che necessita appunto del sistema di traduzione come vi ho detto all'inizio del tutorial a noi serve solo a scopo didattico vedete che però la stringa appena inserita recent post la troviamo qui diamolo ok perfetto allora guardate cosa andiamo a fare se io seleziono la stringa recent post qua sotto come abbiamo imparato la settimana scorsa possiamo andare ad inserire articoli recenti ok la nostra traduzione andiamo a salvare il tutto vediamo voglio vedere un attimo all'interno di length eccoci qua perfetto torniamo qua salviamo ecco era solo per vedere ecco l'effettivo salvataggio di quelli che sono praticamente i nostri file abbiamo quindi modificato la nostra traduzione torniamo qua in ftp qua non c'era niente avevo solo creato la cartella seleziono i miei due file li porto in upload perfetto abbiamo portato il tutto online torniamo in bacheca aggiorniamo e ovviamente ancora non è cambiato nulla perché dobbiamo fare due cose numero uno portare online all'interno di index.php quella stringa che abbiamo creato modificato un attimo fa ok eccoci qua dobbiamo portarlo anche sulla versione online quindi ci andiamo a prendere eccoci qua tutta questa stringa la sostituiamo col codice appena inserito e andiamo ad aggiornare anche questo non è sufficiente perché in questo modo se inseriamo questo codice php con l'interno di una stringa comunque non ci darà nessun errore vedremo che la visualizzazione del nostro sito sarà corretta ma ancora wordpress non è in grado di andare a prendere praticamente la traduzione perché qui abbiamo semplicemente indicato main book ma insomma è come dire un plugin un tema si chiama tal dei tali noi scriviamo tal dei tali e la cosa è finita lì no dovremo in function php andare ad inserire un codice che dice a wordpress che questo template questo tema ha praticamente è supportato supporta le traduzioni quindi noi andiamo a prenderci proprio dal sito wordpress.org vedete questo function reference dove andiamo non c'è nulla da inventarsi andiamo praticamente a prendere quello che è previsto da wordpress ed è questa la funzione è il load tem text domain è quello che mi avete visto appuntato più volte eccolo qua load tem text domain quindi andiamo a prendere questo codice di inserimento vedete add action eccolo qua lo andiamo a copiare torniamo al nostro function php e prima della chiusura del tag php a fondo pagina ok inseriamo questo questo codice andiamo a visualizzarlo come si deve add action after setup tem dopo avere settato il tema il tema che io ho in utilizzo ok questa è il codice chiave di quello che stiamo facendo my tem questo è il nome del tema e qua metteremo main book ok magari scritto correttamente main book ok get template directory quindi tutto l'indirizzo diciamo di dove si trova il template è garantito da questa funzione php languages invece dobbiamo correggerlo ok perché noi abbiamo previsto un nome per la cartella che è lang ok quindi fatto questo aggiorniamo il nostro file e andiamo ad apportare l'ultima modifica necessario a far sì che tutto funzioni ovvero rinominare i file po ed mo che sappiamo doversi chiamare allora andiamo po va lasciato eccolo qua e lo chiamiamo it underscore it maiuscolo stessa cosa per quanto riguarda il file mo che appunto come abbiamo imparato è quello letto da wordpress quindi it underscore it maiuscolo perfetto torniamo alla nostra home page aggiorniamo il tutto ed ecco qui la nostra traduzione articoli recenti quindi questo il sistema per predisporre un tema che appunto non lo preveda alla traduzione al sistema di traduzione di wordpress la cosa può sembrare un pochino laboriosa ma una volta capito il sistema ecco che potete applicarlo a un plugin che avete scaricato e che non lo provvede al vostro al vostro tema al tema che vi costruirete da solo e che magari metterete a disposizione in rete io vi ringrazio al solito per l'attenzione con wordpress vi do appuntamento a mercoledì prossimo ciao Grazie per la visione!